Tenta di dar fuoco al cugino, Polizia arresta 78enne per tentato omicidio a Reggio. Personale delle volanti della Questura Regina hanno arrestato per il reato di tentato omicidio un 78enne Regino che per futili motivi nei giorni scorsi avrebbe tentato di dare fuoco al cugino. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito di richiesta di aiuto effettuata al 113 della sala operativa e hanno fermato l'uomo dopo che aveva colpito a calci il cugino che si trovava a terra, cosparso di liquido infiammabile. La vittima ha dichiarato al personale delle volanti che il cugino a seguito di una litte per futili motivi lo aveva aggredito e gli aveva riversato addosso del liquido infiammabile da un bidoncino e che poi non era riuscito a dargli fuoco, nonostante tentasse di utilizzare un accendino da cucina. La vittima ha anche dichiarato che nel tentativo di scappare è caduto a terra e ha urlato per richiamare l'attenzione dei vicini ma è stato colpito a calci dal suo aggressore. L'intervento del fratello della vittima in un primo momento e subito dopo quello della Polizia di Stato hanno impedito all'uomo di portare a termine il suo intento delittuoso. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto per tentato omicidio operato dalle volanti che ha disposto che l'uomo fosse posto in regime di detenzione domiciliare con l'applicazione del braccialetto elettronico.